Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto maschere realistico completa capo. Questa maschera è stata creata con l'accessibilità, il realismo e la qualità in mente. Ogni maschera è ora costruito con super resistente, in lattice flessibile che si sente rinforzato e di lunga durata. Sembrano troppo buono. Ogni maschera alla Taco Mask presenta la stessa finitura di alta qualità, professionalmente dipinto per risultati eccellenti mano. Ogni maschera ora dispone di dettaglio più fine tra inestetismo della pelle e le rughe per aumentare il loro realismo, oltre ad offrire una variazione di colore della pelle. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.